Corsi di guida sicura, check-up auto e informazioni sulle nuove tecnologie satellitari. Il tutto gratis. Il progetto itinerante in strada con sicurezza torna nelle principali piazze della regione, ma con un'offerta ampliata e rilevanti novità. Otto saranno le tappe toccate a marzo dal tour promosso dal centro guida sicura, dalle officine Bosch Car Service e dalle agenzie Allianz Assicurazioni dell'Umbria. Si parte giovedì 12 da Perugia e si prosegue nei giorni successivi a Terni, Gubbio, Città di Castello, Castiglione del Lago, Foligno, Todi, per concludersi a Orvieto sabato 21 marzo. Novità principale, la collaborazione con il progetto guida la vita della Ollus Elisabetta Barbetti, grazie alla quale gli studenti potranno partecipare alle iniziative di strada con sicurezza. Per la prima volta c'è un embrione organizzato di intervento capillare di diffusione della cultura della sicurezza stradale, che si articola in due momenti. Il primo è stato quello didattico, che ha coinvolto circa 2.500 studenti di Umbri, delle scuole medie superiori, progetto guida la vita dell'associazione Elba e della polizia stradale con interventi in classe. Abbiamo dato l'input di andare a lavorare proprio con i ragazzi perché abbiamo la ferma convinzione che sia proprio da lì che dobbiamo iniziare. Il ragazzo deve imparare a guidare, deve capire quanto sia importante il veicolo, la corretta manutenzione, l'attenta valutazione della macchina che ha. Quindi faremo questi check-up gratuiti ancora una volta, ma li faremo con i ragazzi vicini. Sono esercizi che non si possono fare tutti i giorni su strade comuni perché sono esercizi che si possono fare solamente in aree adeguatamente attrezzate e quindi con scarsa aderenza per quanto riguarda la stabilità del veicolo. Per noi della Satiri Auto è fondamentale partecipare a questi progetti di guida sicura che vanno a sensibilizzare i giovani verso una guida sicura e responsabile. Abbiamo deciso di fornire delle vetture dal design accattivante alla moda, come appunto Fiat 500, che vanno a fondere la guida appunto divertente e alla moda con le nozioni di guida sicura. Infine, l'aspetto assistenza satellitare. La tecnologia come quella di Sesto Senso, di Allianz, che è il leader mondiale in questo, permette un nuovo modo di stare in macchina, una tranquillità, avere sempre una struttura chi ti segue e ti assiste, secondo noi va nella direzione giusta.